Partita ha perso 3-0, merito del Verona che è un'ottima squadra. Sono contenta della prestazione, peccato per secondo me il secondo e il terzo gol che glielo abbiamo regalato. Abbiamo avuto le occasioni, non si è riuscita a sfruttarle, dobbiamo diventare un po' più brave sotto questo aspetto. Noi andiamo avanti per il nostro percorso, sabato ci aspetta il Sud e Tirole. Speriamo di far bene, come abbiamo fatto bene sabato scorso con l'Userna.